ciao a tutti bentornati su isaac repentance abbiamo oggi una special guest che si chiama valerio e abbiamo deciso di fare una new run a caso a casissimo dove con isaac magari dove valerio sceglierà cosa prendiamo e cosa no se sarà divertente perché io non suggerirò che cosa fanno le cose mi sarà una lose run fantastica andiamo it's time ok basement già ci piace l'unica cosa non possiamo non vogliamo anche le tanni perché non ricordo più come si gioca ma c'era ea bomba non vuoi usare c'era la bomba nella tengo perché se c'è se trova una tinta quantomeno diciamo almeno quell'oggetto sembra un oggetto semilare i tuori non ci fidiamo qua non ci sono qui c'è la morte celebrare ecco ora è un po' chiuscì e scrivare tutti tutti questi simpatici vuoi simpatici sui? valerio appena finisce oltre più la popper poi due working class ecco smacca quindi per premio quindi per premio e per questo schermo che ti metto ci piaceremo su youtube poi un giorno che non piace troppo se troviamo anche una webcam lo facciamo con la webcam oh no ne abbiamo ancora trovato e basta queste stanze enormi piene di mosche lunghe ma non è ancora trovato la stanza con l'oggetto la stanza è l'oggetto ma non l'ho mai visto anche in serie perché si muestra per te e piange no ma ogni volta questo generale ora abbiamo due borbe una la puoi usare adesso o non la voglio usare no vediamo intanto cerchiamo una stanza la stanza potrebbe essere allora tu nel periodo stasera che scusa se c'è fortuna devo tutte e due beh sì ma anche in focine però ci credo ma anche in focine ma anche in focine ma anche in focine mi ha scorreggiato a brosso un fuoco no e vabbè allora infami visto che ormai l'abbiamo preso possiamo dire A dà una possibilità al colpo che ci colpisce di essere non arresti un tomat ti salvaguardia da un po' se non ti fa danno esatto non ti fa danno non ti fa danno non mi è una bomba allora la stanza segreta potrebbe essere o qua o là qua chiaramente potrebbe essere vuoi di stare se non è qua non può essere no non può essere qua sopra per capirci perché qui non c'è libero accesso abbastanza ah ecco perché troppo sì yes non c'è ce l'ho ah c'è bomba scherzo bomba scherzo ok allora niente andiamo così come siamo perché purtroppo altrimenti anche quando posso utilizzare il tavolo è vero non ci avevo pensato ma proprio lui come di quelli che ho battuto meno volte possibili meno volte possibile quello che mi capita meno volte questo qua soprattutto il primo questo soprattutto il primo rio è solo il primo rio anche quello grande si è sbombardato da solo va bene è quello che vorremmo fare non gli stare vicino secondo me è quello che devi fare questo qua ti segue fino a tutti i verdi secondo me cioè oh finalmente brava bomba eh come l'ho detto però le sparano va bene che è il primo livello però anche il numero è presente lo prendiamo? va bene lo prendiamo? si momento del danno ah qua devo decidere anch'io dove andare però io non andrei di là si infatti non ci voglio andare direi che fare una run semplice perché già stiamo morendo così ed è probabile che non superiamo la prossima stanza si infatti andiamo prendiamola come una run di di test poi magari facciamo un'altra di seguito certamente non morire come come brutte persone va bene va là qui abbiamo la chiave quindi lo facciamo subito adesso anche quelli diventano infuocati no ma fategli gli aggiornamenti già non erano abbastanza fastidiosi adesso si infuocano anche quelli perfetto benissimo se diventano pure a ricerca e sparano pure a prendiamo un po' di un po' di dobbiamo prendere va bene lo prendo non te lo dico va bene non so niente di niente me lo vedo ha me è un bello so che ero più forte l'altro La cosa è utile quando ti capita di avere un calcolo renale, quindi si intoppa, e quando si intoppa, poi li spara tutti insieme. Un vero coltrabbosco della mossa, che è tutto più di metà vita, vedi tu se non è forte sta roba. Non è forte, però... Oh, non è forte! Ok, allora questo lo vendiamo? Sì. Aumento del danno e range, bello. Ci andiamo? Va bene, ma non so se puoi prendere qualcosa. Dipende. Che? Ah, qualcosa ti potrebbe dare un cuore. No, no, no. Ti toglie comunque i cuori vuoti, eh. Ah, è vero? A memoria. Se hanno cambiato pure questo... Attacca, posso cambiarlo? Se vuoi posso cambiarlo. Sì, cambiare. Gatti, colla. Dexter, due, qualcosa. Quindi? Prendi questo qua. Vabbè, prendi questo. No, no, no. Lo so che non prende nessuno dei due, eh. Allora non prende nessuno dei due. Non prende nessuno dei due. Peccato per Gappi, perché... Ma perché non è scomparsa? Perché ha una percentuale di non scomparire. A me è sempre scomparsa. Ok. No, no. Scompari di solito. Ma una piccola percentuale è migliore. Se ha il 5-10% di possibilità che anche uscendo dalla stanza... Anche uscendo dalla stanza non scomparsa. Sarà il 10% secondo me. Diciamo una cosa a casa. Non si sa. Non so. Due chiavi per una stanza... Probabilmente con niente. Ti consiglio di non farlo. Non so. Ma magari c'è uno dei due. Ho capito. No, vabbè visto che abbiamo un mezzo duolo da un... Da un livello più. Sì, infatti. Allora. Infoni. Non so se hai visto che cosa fa. Sì, ho visto. Ha fatto. Sì, mi ha fatto di buon miracolo. Perché... Esattamente. Esattamente. Beh, adesso però abbiamo tre chiavi. Che vogliamo fare? Sì. Sì, secondo me. Adesso ci puoi provare. Beh, è un po'. Ah, chi ha l'infinite per questo livello? Questo è il livello. Perché è un po' finito. Sì, infatti. No, però abbiamo 15 monete. Attenzione. Possiamo andare allo shop. Possiamo vedere se c'è qualcosa allo shop. Ma non ci siamo ancora arrivati allo shop. No, però siamo morti. Beh, meno male. Quindi, ripartiamo. Eh, che fortuna. No, vediamo. Magari. Va bene. Dado o questo? Questo. Questo. Allora, questo dà la possibilità che i nostri colpi, quando cambiano colore, si vede, blocchino gli avversari. E allora ho fatto bene. Vedi? C'è un colpo rosso, hai visto? Sì. Ma quel colpo lì frizza. Ehi? Non mi ricordavo assolutamente che sparassero. Vedi? No, vabbè. Devo prendere una mano tantissima. Cioè, non si vede che ti danno da questi. No. Che cosa? Sai che cosa fa questo? Questo non lo sai forse che cosa fa. No, non lo so. Questo è caos. Cioè, infatti non riusciremo mai a prendere nel primo livello. Ma questo qua scombina tutti i pool degli oggetti. Quindi qua puoi trovare la roba del... Cioè, nello shop puoi trovare la roba del patto col diavolo. Oppure li puoi trovare anche nelle stanze normali oggetti col patto col diavolo. Ci scombina tantissimo di questo. Se riesci a farne 15 se vuoi se vuoi prenderlo. Se vuoi nemmeno prenderlo. Se vuoi nemmeno prenderlo. Se vuoi nemmeno prenderlo. Si, infatti. Sono quelle che non fanno danno finché hai cariche. Ma no, no, no. Che qualcuno sono le cariche di due persone. Si, ma soltanto la prima volta. Si, se... E le altre? Se c'hai la carica... E poi si scarica. Va bene, siamo sempre. Va bene, siamo al boss finalmente. Siamo al boss finalmente e moriremo. Anche per te è difficilissimo. Poi è il primo livello. Anche questo qua capita poche volte. Ma questo non può generare... Perchè? No, con la testa. Si, con la testa si. Eh, però genera quelli. Con i piccoli. Buono, buono. Eh si, perché è una testa di campione che... Eh, perchè non è del suo colore. È un campione. Eh, vabbè però. Mi sa che non è facile. Ma in realtà una volta io non subivo danni. Ma... Come? Vabbè ho capito... Gli anni passano eh. Cioè... Grazie. Grazie Valerio. È stato molto bello avverti qua. Eh, che facciamo? Prendilo. Grazie a cielo. Se infatti lo sapevo cosa faceva. Ah, lo sapevi. Sì, lo sapevo. Allora, la stanza segreta. La stanza segreta... Chissà, chissà, chissà dov'è. Qua non può essere. Qua può essere. Qua può essere. Sì. Può essere sotto. Qua non può essere. Molto interessante il fatto che non possa essere qui nemmeno. Quindi la stanza segreta o è qui. Oppure là. Oppure là. Oppure là. Ma la super segreta? La super segreta. Eh. La super segreta... Eh. La super segreta... In fondo. In fondo. La super segreta non deve toccare le altre stanze. Quindi o è... Forse qua. Cioè, il 90% è qui? Sì, infatti perché... Ok. Non era... Ah, no. Poteva essere sotto. Ah, eccetera. Eh, certo. Forse è qui. No, poteva essere qui. Forse è qui, chiaro. Vabbè. Niente. Ci abbiamo provato. C'era una buona possibilità, forse. Eh. Qua non poteva essere. Qua non poteva essere. Qua non poteva essere. Nessuna parte. Però secondo me ti sei dimenticato che... Che c'era... Che c'era quassù... Libero. Sì, sì, infatti. Per quello. Non ci ho pensato lì per lì. Ma l'avrei provato comunque lì, perché c'era il 50% di... Il buio. Il buio è meraviglioso. Già non vedo niente. Il buio, quelli trasparenti, poi... Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh. Eh-hih-eh-eh-eh-eh. Eh-eh-eh-eh. Ha frizzato. Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh. L'hai... Hai... Hai frizzato una calpa. Una calpa che spara.... Una calpa che spara... Uuuuhh. Quale è? Quale è? Perchè l'ho messo riuscito a prendere un'altra cosa? Eh, faccio. Frizzato! Ma perchè? Ma basta? Eh, vabbè. Dov'è? Ancora? Non è morto? No. C'è il dado... Cosa sta andando? Mmm, va bene. Non c'è cosa faccia questo. Mmm, non è chiaro. Cioè, no, sì, aumenta credo la possibilità di essere un po' i cuori bianchi, ma... Allora vabbè, ho fatto bene a prendere. Sì, ma è una possibilità che mi fiume allora. Oh, ok. Io mi sono lettera... Cioè, io mi dimentico che... Che abbiamo... come si dice? Non ce l'abbiamo. Vabbè, non ce l'abbiamo. Allora, c'è provato. E' già provato. E prendevi... Inferno. Come fai a saperlo? Eh, immaginavo. Per come è ripartito felice... Se ne sono comunque un po'. Allora, no. Io cercherei prima la stanza con gli agenti di starci come una chiave. Sì, sì, sì. Tanto ormai... Cosa ci hanno giocato? Vabbè, dobbiamo andare per forza qua. Per forza giù? Sì. Allora, no. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. No, Alistia è uscito il ragno. No! No! No, 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 no. Eh, va bene. Eh, va bene. Che cosa dì lì? Eh, non è divertente. Ma no. l'hermi soffra... no scusi vieni via certo è il buio hai apr... hai... pochi secondi... due minuti fa hai detto tipo... due minuti fa che cosa facciamo? dado prendilo bella ci è piaciuta questa ogni livello può cambiare laura le ore sono tre e sono aumento del danno velocità di sparo e aumento del ring se non mi ricordo male potrei sbagliare questo aumento per te è tutto possibile no ogni volta il punto danno è cambiato adesso è danno aumentato questo è abbastanza difficile si soprattutto perchè è velocissimo più il bambino è sempre stato veloce no no è più veloce del no scusa non ti ho detto solo vabbè fa niente vabbè faceva schifo tanto per un oggetto che faceva schifo non potevamo cambiarlo quindi giustamente niente cosa scendiamo perchè il percorso alternativo non credo che sia il caso allora siamo finalmente arrivati al terzo livello siiii ma sparano sparano ti danno le cornate cornate iiii iiii io ho visto che ho il giallo eh no vedi il giallo è speed vedi che è velocissimo iiii 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 ma cosa fa quello viola all'uole rompiscatole più grosso e sparano iiii iiii bastava che dicevi non piscato l'avevo capito e tanto tu quando giochi tu quando giochi ad isaac dici che questi qua sono sempre quelli che danno fastidio questi no si anche gli altri forse quelli che danno più fastidio perchè te coroni come il bro è interessante perchè aveva ancora come vedi a scrivere il 100% di possibilità di fatto quindi questo è prendiamolo io non mi ricordo come si fanno queste io si devi soltanto sparare e schivare basta si non mi ricordo anche di schivare siiii senza prendere danni questa va bene la usiamo? yeay perfetto adesso per mezz'ora siamo qui perchè spariamo a casa nooo andiamo sotto andiamo sopra qua solo devi decidere tu perchè non c'entra niente no no ok grazie a cosa? ne lo so non c'entra niente non c'entra niente senza sparare senza sparare ma fai prima fuori ma faccio prima fuori cosa che non riesca a capire neanche dove spara ah finalmente sei tornato a sparare come tutti gli facevano giù andiamo giù però cosa negativo è una cosa positiva speriamo bene il mostro il mostro questo qua è baby mostro il mostro piccolo mostro non è small small mostro mostro small mostro small mostro eh ho capito cos'è piccolo mostro va bene va bene va bene due bombe mettiamo bombe che qua c'è la x vai x x eh more rock prendiamo? si adesso c'è un altro spettacolo yee 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 mettiamo una bomba qua e vediamo si perchè così explode quello puoi andare lì no? no no e invece no bisognava farlo con quella che non esplodeva no ma io volevo metterla lì semplicemente per vedere se c'era se c'era la stanza segreta bravo se c'era la stanza segreta sotto andiamo a vedere le stanze intanto non abbiamo ancora trovato abbastanza di oggetti che mi sembra abbastanza importante che dici? mmm ok no eh questi sono odiosi a dire poco infatti questi qua secondo me ti devi sempre muovere perché non l'abbiamo a giocatore da Isaac eh? questa la prendo o la roll? roll art si prendiamo prendiamole il girl fai il girl giupido adesso sbattere il girl si credo di si ma una volta sbattere come? una volta passiamo a traduzione no adesso sbatte c'è contro i muri si poi le altre cose non lo so no ma anche contro i boss è inoltre si contro i boss si non lo ribalzava così ma io sulle pietre non li so perché io lo trovo sempre su sulla challenge di come si dice lo prendo? si si infatti andiamo qua? si prendo qualcosa? no no perchè questo tutte le vinule diventano cattiche se non vengono male e questo non sembra è lazzaro diventi lazzaro se muore no no non ci andiamo lì no no non i percorso alternativi no si infatti quello lì è troppo complicato poi è tipo uno dei tipo il più difficile mi sa sono tutti in fila come questi qua solo che saltano ci andiamo dopo ci abbiamo? si abbiamo chiavi dopo si ma è un boss dopo? forse questo non ci voleva appare che perché sei andato subito e non e allora che dobbiamo fare? non lo so io no vabbè ho preferito farlo subito questo c'è 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 oh allora mi ha portato da lui non mi fa colpi sette volte sullo stesso corpo ma non ci posso fare niente io ok 6 milioni di danni con una cacca con una cacca cazzo un cacca imbarazzante sciogliti 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 ehm si prendilo ok ancora qui ancora in più non me lo scontavo non mi ricordavo la velocità no il latte il latte fa bene al corpo bene ah questo c'abbiamo intorno con il senso potresti farlo puoi fare quello pensare quello si sarebbe difficile quando sono aperti piuttosto bra 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 però non devi sparare io ci credo se no non smette più basta poi quello mi sa che è molto difficile ma vedi che passa attraverso ma non posso attraverso il sole per me per me per me ma ma si ecco vediamo anche come ho fatto ma non fa niente non fa niente ma veramente non riesco a più c'è abbastanza sì come sai è abbastanza tu riesco a prenderlo alla fine si sono abbastanza molto che sia qua se vuoi prova eh dopo ci provo dai se non trovo che ho fatto hai visto che quando l'avevi pratificato era una era una frittella una frittella una frittella di mostro si un monstro buona la frittella di mostro che è buona la frittella di mostro prendilo grazie prego non gli oggetti mi ha fatto attenzione eh questo è male poi puoi sparare con un obiettivo buono 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 sabato si vabbè anche questo lo faccio con la challenge di di come si dice con quale so quella la 31 ah del terreno di numeri a memoria si è l'unica che faccio praticamente poi c'è la 16 e la 15 che sono l'unica che riesco a fare la mega satana si quella di mega satana e la 31 ah io direi di andarci a fare un giro si poi andiamo pure dall'altra parte però qui puoi decidere tutto tu perchè io non voglio decidere qui fai tutto come vuoi tu e non la scala non ti piace no no è sbagliato ho preso anche danno sono un cartino ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato prendi quello da 10 no? no è un attivo ah ok la tipo non serve no ma lo posso si infatti per quello che non volevo che la prendevi si infatti stavo per dirlo due quali è andato via no aspetta tu devi devi prendere quello con le due quello che ti servono due chiavi per aprirlo sì sì ma le altre stanze non le fai soprattutto tu hai sempre detto fai tutte le stanze è vero è vero non si sa mai anche uno dei miei youtuber preferiti anche tu anche tu certo no mosca limone no mosca limone meno male vabbè possiamo andare non lo so non l'ho mai vista ucciso ok bomba allora nemmeno nella stanza quella dei due cose sì le due cose le due cose le due cose le due dei due due chiavi le chiavi e non si poteva mamma mia di lover lo terreno ma vogliamo provare i soldi a lui se vuoi e poi lo faccio decidere prendo o roblo? prende va bene qua non c'è un cinema 3 si scende si scende scendiamo a necropoli come si chiama? chiama infinita potevi prendere la chiama infinita questi sono difficili questi anche li affrontati ancora di più pensare maschera al buio quanto sono difficili eh mamma mia però brutta mia brutta mia questo non ci voleva non mi è mai capitata assassinata a te eh si adesso allora anche io che ti guardo scusa c'è io l'ho vista tu l'hai fatta ma sono giù domandi ma no 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 iman no 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 steel un tipo una usca Non ho troppo paio di uomini. Non manco io. Spara più veloce. Ok. Sì. Poi devo cercare la stanza veloce. Yeah. Adesso spara. Adesso è un po' veloce. Tu puoi spammare bene. Oh, per poco. Eh, sarebbe meglio. Te l'ho già detto. A due ne sparassi? Sì, perché l'ho levato proprio di mezzo. Ancora. Ti è suicidato. Perché? È vero, il cuore è andato morto. Finissimo! No, io sto continuando a sparare. Ma un male. Sparati, spawnotti e lo stesso. Che tagliarò! Ma che è sta ranna? Ma lì è molto difficile. Grazie. Ci sono un po' privato. Ho messo. Perché se riesco a farlo io, c'è. Ma tu lo fai su una play? No, non c'è nulla play. Si deve scaricare. L'hai cancellato. Questo. Questo non mi ricordo cosa fa. Però... Lo prendo. Aspettiamo di regolarlo. Si. Rolla, rolla. Si. Qua sotto. Lo rendiamo. Yeah. Prendilo. Posso vedere quante cose hai? Mamma mia. si c'è... Iretra. Scusa. No, qu смотрите, scusa. Chiedere la tabella del due il quattordo. ho fatto mal di madica adesso che hai? ma non mi hai fatto la vera si vabbè qui è il tuo deciso io si qui è il tuo si 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 Sì Questa qua te la tieni per dopo Eh ma è l'ultima di manco Eh? Cosa è il piano di manco? Non è il piano di manco Forse Ah no no Ma non c'è più niente da recolvare Un oggetto Un altro non trovo Ah è meglio che non troviamo di quegli oggetti Delle stanze Sì esatto Però non è che c'è tanta possibilità No Una monetina No comunque non la voglio la monetina Un solito Questa è la chiave di papà Vabbè prendila No non lo so eh Non me la ricordo Ma prendila Prendila Va bene va bene Ah The Red Key Totalmente inutile questo livello Perché cosa fa? È quella È quella che ti fa vedere le stanze aggiuntive Ma nel primo e nel secondo livello mi pare Allora no scusa No è fighissimo ma non Non credo che funzioni qui Trovalo Oh Dovrebbe essere un aggiunto tipo della stanza iniziale Di dove inizio il livello Ti posso fare una domanda Ma fino a quante arriviamo? No no finiamo la rata Cos'è? Finiamo questo Ah poi basta Sì È lungo il video Rerrolliamo Eh? Rerrolliamo Sì Prendilo Ci sono altre possibilità reroll se vuoi Ah no allora reroll ancora No no è da un punto Cioè te lo ricordo Sì sì vero Chissà quante volte lo ho No possiamo fare un'altra volta Ah ok Questo prova la decide perché non so Credoissimo Prendo reroll Ma hai detto che non si poteva più fare Cioè abbiamo un altro reroll se vuoi Eh allora si rerollà Rerollo? Sì Questo è un oggetto raro Rerollo? Va bene Hai detto di rerollarlo? Eh sì va bene rerollà Quella trascendenza ti fa buonare Eh ormai No Ho mai detto di rerollare rerolli Mannaggia Questo prendilo Può andare al prossimo livello Ma ci poteva andare lo stesso è finito il livello Oh niente Vabbè ciao 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 Con le mani con le mani con le mani con le mani ciao ciao Quella Lììì Allora ci possiamo andre solo se usciamo da Mamma Come Ok aí allora usciamo da Mamma Ma si chiama il livello di mamma? Eh sì, se no non c'era quella stanza Ah, e perché c'è poche volte quella stanza? Ma c'è solo quando c'è mamma Eh, il livello di mamma io non lo trovo mai quella stanza Vedi che c'è una X? X Quello che qui ti dà un oggetto per uscire da mamma Beh forse Ma ti fa ritornare all'inizio, sbaglio Esatto, una volta che hai fatto mamma sei preso Un sac sia negativo sia la polaroid E vai lì, vai nel livello Non mi ricordo dove vai Eh? Non mi ricordo dove vai Con questa carta? No, sì con la carta torna inizio il livello Non mi ricordo dove vai se entri dentro Ah, io quello non lo so Non so, ho soltamente tante versioni di Isaac E sapesi quante? Non mi ricordo più che cosa fanno Pure tutti i tuoi video ho visto 50.000 Sì, ma no, ma dopo che ho finito i video Mi sono uscito tutte le versioni Ma quante? Troppe Così tante da non ricordare Eh, così il più repentance non l'ho mai fatto Quanto però sono? Perché non l'ha mai fatto? Non l'ho mai fatto Non l'ho mai fatto perché non ci sono mai Che cosa è stato? Ehm, no, no No? Rolla No Ehm, è meglio l'altro mi sa Anche se forse era un Non so che cosa è usato Ma io mi sa che l'ho usato Era un tipo al posto del dato Mi sa che andava È un attivo quindi Sì, è un attivo Non sapevo come dirlo Gioca? Cosa fa? Un guadagnastolo Sì, però poi No, non c'è la bomba Vabbè, se trovi una bomba però usa Almeno Eh, dipende da se mi ricapita Adesso che lo vengono È più facile che ricapiti Eh? Adesso che l'ho già aperta È più facile che di Quante volte È un re Sì Ma perché ho fatto il suo spirito? Bovoretti, piccolino Questo non lo fanno solo scivolare Ma non lo fanno Allora non fanno niente Basta che non gli vado addosso Questi qua dicevo Sì, sì Ma ce ne sono due di tipi mi sa A parte gli altri livelli La potremmo andare direttamente da mamma Eh, mamma Da mamma? Sì, mamma Morta Cassione rossa Quindi caldata parola Capistia 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 E sei già morto Cosa prendi? Io prenderei la Polaroid Sì, prendi la Polaroid Poi però decidiamo Continuiamo la run Quindi andiamo verso la chest Oppure Oppure Torniamo indietro E non mi ricordo dove si va Ma se andrà verso quel boss Che è impossibile Allora andiamo qui Si dice che è impossibile Non mi ricordo Ma siccome si va Verso il boss Quello dei quattro cavalieri Ah no 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 Però no, quello lì Aspetta un secondo Si mi sa che parte la runa rovescia E quindi si va di là Sì, andiamo Andiamo verso il cuore Sarebbe stato bello volare Ma tu trascendenza non l'hai voluto E non lo sapevo Beh, ci abbiamo dato carico Yeah Ce l'abbiamo Cos'è quella? Cos'è? 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 Che cosa teschi hard? Perché ti manco un'impressione No, non mi fa pressione Perché non l'ho mai vista Non so che fa Non so che fa non so gestirlo non pensavo che era tutto gestito vai vai guardarlo gestirlo si affronta non ti sta servendo tanto il tuo aiutante come si chiama quello che lo lanci ci sta intorno tanto secondo me così lontano andava e sono carichi molto sì al massimo a me non è vero se hai visto questa come si è messo era una pallo guarda che anche io non ci gioco da tanto è perché l'ho presa da luca e poi ha detto finché non finché non me lo dà hai visto lui si era buggato facciamo avanti indietro finché non noi comprano una isaac suo non ero merita sì perché a parte che l'abbiamo stato senso fin quando non ne prende uno suo il mio e quindi non ci gioco da santo che hai già tuttanto che lo scrivo su una play e poi tu me lo ti installi con ieri che c'era qualcos'altro perché devi cancellare quello andore rollo raro la prendi l'anno aumentato più range aumentato cos'è ancora più lontano vabbè allora c'è domandiamo lontanissimo adesso sì ma tanto moriamo adesso che mi sa sti due cuori non mi ha visto quella stanza voglio no tu sì ma io no fuori per favore non ti dai poi 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 mi sono arrabbiato mi sono veramente pronto perché cosa fa a caso nella direzione in cui sei quando si rompe anche questo sarebbe un miracolo forse ce la facciamo c'hai 24 chiavi usa le questo qua è uno di quelli che ho di vero sì non è stato sicuro il coro non si è avvi 27 di anni sempre più chiave ogni stanza una chiave che credo che credo che c'erano rossi e dovevi fargli fuori l'importante che ce l'abbiamo fuori uuuh cervelli c'è non è proprio l'aran dei cuori l'aran dei cuori non esiste nooo non esiste ma capire c'è mini pin small pin small pin, lil pin sarà lì perchè? è perchè si viene tutto lì ma lil' sarà in un'altra lingua no? lil' vuol dire little cosa vuol dire? piccolo è vero little è vero little little boy il lil pin è little pin 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 siiii metto cuore è meglio di niente ma è tutto magari dove... no non serve qua mezzo cuore purtroppo ma scusate non credo serverebbe a qualcosa di più forte più forte mio signore oh eh no e poi boh non lo so questo lo facciamo un occhio sulla testa c'è uno uuh 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 mamma mia scommi cari un percorso che soltanto chiavi c'è 33 chiavi non è normale vediamo sì no mani che mamma infine chiedono tanto perché questi questi presenti possano attaccare però non ti possono attaccare il cuore è molto facile io l'ho fatto tre volte fai nella stanza dell'angelo quale dei due no 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 che fine ingloriosa oltretutto c'era la coppa finissima l'altra del cielo insomma che cosa va bene finisce qui la nostra triste battaglia ciao 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 no che tristezza